Ok, non so fare il cono ma ci ho provato. Ho messo per primo il gusto che mi piaceva di più che è il pistacchio, per secondo quello che mi piaceva giustamente di mezzo e il terzo quello che penso che non mi piaccia proprio che è nocciola. Eccoli qua, gelati non proteici, non niente, sono gelati, gelati, pesi super odis, ho ricevuto a 10 per pagare di meno, prendeteli perché sono spaziali. Mamma mia il caffè è una cosa spaziale raga. Peccato non sapere usare sto coso, non sono proprio capace, sono in branata. Ho scoperto che la nocciola non mi piace, però non è male. Caffè 80 su 10, spaziale. Dissà se la mia cialda sarà croccante o se farà cacà, i gelati sono la parte migliore di protis, non c'è un cazzo da fare. Beh il caffè è spaziale, dov'è il pistacchio? Ormai sarà arrivato qua. Cialda croccante, meno male. Non è col pistacchio signori. Buono il pistacchio. Alla fine quello che mi piace di meno, come già lo sapevo, è la nocciola, ma la nocciola non mi piace mai. Quindi caffè 47 su 10, nocciola come volete, cioè se mi piace magari sì, ma a me non piace. E mi sa che un otto glielo diamo, però non di più, perché non è esplosivo. Mi sentiamo un po' meglio, però è buono. Super buono. Cono migliore di molti di quelli che si possono mangiare in giro, devo dire. Eh brava, brava, non sono brava a fare la gelataia, però brava. Mmm.